Torniamo a parlare di didattica a distanza e lo facciamo considerando i punti di forza che sono immersi durante l'utilizzo degli strumenti digitali per fare lezioni online in questi mesi. Lo facciamo insieme alla professoressa Raffaella Rumiati della Sissa di Trieste e al professor Massimiliano Barollo del Dipartimento di Ingegneria Industriale a Padova. Le riflessioni dei professori guardano verso il futuro e all'integrazione della didattica a distanza a quella in presenza. Lasciamo quindi spazio alle loro parole. Siamo venuti a conoscenza della didattica a distanza in maniera molto violenta dall'inizio della pandemia nel marzo scorso e alcuni di noi hanno dovuto fare i corsi di recupero perché non avevano esperienza di questo modo di comunicare e di insegnare. Molti di noi. tuttavia quello che sorprende è che effettivamente la storia della didattica a distanza in Italia è piuttosto lunga perché è iniziata almeno 40 anni fa, solo che è rimasta fuori dai grandi atenei ed è rimasta confinata negli atenei telematici che sono un corpo a sé rispetto alla formazione universitaria italiana. A me sembra che la didattica a distanza, proprio anche per come è nata, sia invece uno strumento non di frustrazione, chiaramente noi lo associamo a questo periodo difficile, ma possa essere uno strumento molto pervasivo, che può raggiungere molte più persone, molti più studenti di quanto non possa fare la didattica in presenza. Chiaramente noi dobbiamo auspicare e lo desideriamo di tornare in aula con gli studenti e di riprendere una vita normale. Credo che anche gli studenti ne abbiano un grandissimo desiderio, non solo per il rapporto con noi, ma anche per il rapporto tra di loro. Tuttavia credo che ripensare alla didattica e soprattutto potenziare la didattica a distanza sia oramai un processo irreversibile. Quando si parla di digitalizzazione della didattica si tende a ridurre questo fenomeno alla mera erogazione a distanza delle lezioni e conseguentemente ci si pone la domanda se la didattica a distanza possa sostituire integralmente quella in presenza. A mio parere la questione fondamentale da porsi è un'altra e cioè se un uso oculato della tecnologia digitale possa o meno favorire l'apprendimento e personalmente sono convinto senz'altro di sì, purché i docenti e le docenti vedano nella tecnologia uno strumento e nulla più di questo. Anzi in realtà non uno strumento ma una serie di strumenti a propria disposizione sul cui utilizzo occorre però formarsi e dedicare tempo ma il cui impiego può contribuire a mettere effettivamente gli studenti e le studentesse al centro della propria azione didattica. Sono strumenti che possono aprire nuovi canali e nuovi tempi di comunicazione tra e con gli studenti e le studentesse anche al di fuori degli spazi fisici dell'aula e che possono contribuire a restituire alle lezioni in presenza il valore aggiunto della discussione e dell'analisi critica trasferendo la semplice trasmissione di contenuti che pure è necessaria a momenti non necessariamente di presenza fisica e questi strumenti possono consentire anche di avvicinare alla formazione universitaria coloro che allo stato attuale ne sono scoraggiati o addirittura impossibilitati proprio perché la modalità attuale è esclusivamente in presenza. C'è un ultimo aspetto molto importante da sottolineare è che questi strumenti digitali possono contribuire a formare generazioni di giovani che saranno in grado di attuare quella agilizzazione dei processi amministrativi e delle modalità di lavoro della quale il nostro paese ha drammaticamente bisogno.